Salve a tutti amici, benvenuti alla seconda parte del corso completo di Pinnacle Studio 16. In questa parte parleremo dei testi e degli effetti da applicare ai testi. Per chi ha già confidenza con la versione 15, non ci saranno grandi cambiamenti e semplicemente un po' spostato il tutto quanto. Una cosa che mi sono dimenticato di dire nella prima parte sull'interfaccia, è che le tracce sono AV, ovvero audio-video, sono indifferenti. Se voi ci mettete audio o video potete metterlo dove volete. Infatti per esempio questa traccia MP3 può stare qua, ma qui ci può stare anche un video. La trovo una cosa molto interessante anche perché effettivamente non ci sarebbe distinzione tra una traccia e l'altra. Quindi potete gestirle come vi pare, mettere audio sopra o video sotto. Per la prima volta l'audio potrebbe stare anche sopra. Di solito nei programmi di montaggio prima viene il video e poi l'audio. Qua invece è totalmente indifferente. Una cosa, molti di voi hanno dei problemi a mettere le immagini e mi chiedono come fare a fare uno slideshow di foto, a inserire delle immagini. È una cosa veramente semplicissima, non capisco il problema. Come risposta a tutti si tratta di fare esattamente come se fosse un video. Qui ho messo tre fotografie, JPG. Una volta messe nella raccolta, semplicemente le trascinate dove volete, ed ecco qua. E una volta posizionata qua la mettete all'inizio e ne determinate la durata in secondi, semplicemente trascinando dal bordo in qua. Come se voleste allargare un video, come abbiamo visto nella prima parte per avere uno stop frame. Quindi la mettiamo così per averla, per esempio, a 40 secondi, ma ovviamente è tanto. Se volete fare uno slideshow di foto, la mettete, per esempio, qua a 10 la prima. Prendete la seconda, la mettete accanto a questa, trascinate per altri 10 secondi circa. Idem per tutte le altre foto, eccolo qua. Ecco fatto uno slideshow in 5 secondi. Questa è, per esempio, una traccia mp3 di base, sotto. Quindi voi mettete in play e avrete uno slideshow di foto. Ora vediamo appena cambia lo scatto. Ed ecco qua. Una cosa, prima che me la dimentichi, dato che ci sono veramente tante cose, è che Pinnacle ci ha messo a disposizione l'utilità di fade off o fade out con un click. Che cos'è il fade out? È semplicemente quando andiamo a far scomparire un video o l'audio. Per esempio, il fade out è quando... Il fade out dell'audio è quando, per esempio, siamo qua. Ora in questo caso è già avvenuto, però ammettiamo che noi vogliamo concludere lo slideshow di foto qua. Quindi ci posizioniamo qua, facciamo taglierina, eliminiamo, io uso il cancio, ma potrete usare anche il tasto destro, elimina. Eliminiamo questa parte e non possiamo troncar di netto una traccia audio. Quindi ci posizioniamo in alto a destra sulla clip audio e vedete che appare questa sfoglia. Vedete? Appare questa linguettina. Voi trascinate con il sinistro all'indietro. Ed ecco che questo qui è il fade out, ovvero la scomparsa dell'audio gradualmente. Quindi la mettete, per esempio, qua per essere una cosa più brusca, così per essere una cosa più lineare. Facciamo un esempio così, una via di mezzo. E facciamo un play di prova. Ed ecco qua. Stessa cosa possiamo farla per i video, ovvero per farlo scomparire verso il nero. Facciamolo con una foto, dato che, come ho detto prima, è indifferente. Immagine o video sono cose esattamente uguali, tranne che il video è un'immagine in movimento, diciamo così, una serie di immagini. Mentre l'immagine è una clip statica, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi effetto di pinnecol, ma anche di qualsiasi altro programma di montaggio video, è applicabile nella stessa identica maniera in una foto come in un video. Vediamo adesso la scomparsa sul nero. Ed eccola qua, vedete? Comodissimo e velocissimo. Quindi abbiamo un po' divagato adesso, però sono cose che prima o poi avrei detto, quindi fa comodo saperle già da subito. Passiamo subito al testo. Questa è la nostra composizione, quindi in questo caso immagini. Questo è il pulsante crea title, lo facciamo. E ci viene subito creato il testo. Allora, questo è un testo di esempio, ho scritto testo a piacere. Questi sono i pulsanti di ridimensionamento. Ecco qua. Questo per spostare. Questo per tirare in alto o in basso. Questo destra e sinistra, insomma classico. Qua a destra, selezionando... Eh, se mi riesce. Selezionando tutto ci sono le impostazioni del testo, quindi grassetto, semplicemente. Impostazioni di carattere, dimensione. Qua aggiunge altri testi. Impostazioni sfondo, impostazioni stereoscopiche solo per il 3D. Allora, una cosa da sapere, che non c'era nel Pinneco Studio 15, è che qua come potete vedere abbiamo uno sfondo nero, ma a noi ci serve vedere lo sfondo del nostro video, della nostra immagine, per capire dove posizionare questo. Questo si decide semplicemente qua giù. Qua dove c'è scritto solo, mettiamo, mostra i file multimediali con transizione e tracce sottostanti, per vedere quello che c'è sotto. Ora, in questo caso, probabilmente il testo è stato fatto oltre alla foto. Infatti, se facciamo ok, vediamo che... Ecco, il testo è stato fatto qua. Quindi sotto non c'era niente, però adesso trascino, per esempio, qua, dove c'era l'immagine. Quindi fate un titolo. Fate ok così com'è, lo trascinate sopra la clip video, laddove volete il testo, lo riaprite. E qua, mettendo, mostra file multimediale con transizioni e tracce sottostanti, avremo il nostro sfondo. E adesso possiamo lavorare in tranquillità, decidendo dove mettere i nostri testi. Quindi, allora, una volta creato il testo, qua ci sono tutti gli stili del... degli effetti. Questo, vedete, cambia alcune cose. Questo fa un look ombreggiato, questo idem, insomma, basta fare un click per vedere la modifica. Qua c'è l'ombreggiatura, e qua modifica anche il colore del testo, vedete, questi sono testi predefiniti, ovviamente. Qua per decidere l'ho smussato. Questi sono tutti stili comunque predefiniti, con profilo. Eccone qua altro. I miei look sono sicuramente personalizzati da salvare, quindi se avete i vostri stili da salvare, li salvate. E niente, qua, invece, per fare tutto manualmente, per decidere il riempimento, i colori di colori, facciamo un esempio. Ecco qua, abbiamo appena applicato il rosso sul testo, cosa molto semplicissima. Adesso vediamo subito le animazioni. Adesso eravamo nella scheda look. Se andiamo nella scheda animazioni, possiamo decidere tutte le varie cose. Cosa abbiamo? Accedi a, ovvero, si parla di effetti di entrata. Come al solito, potete raccinare il mouse sopra un effetto, per vederne quello che succede. Comunque, facciamo una prova. Mettiamone uno. Facciamo un play. Dall'inizio, però. Mettiamo all'inizio. Ed ecco la nostra entrata. Ora, avendo la musica sotto, ovviamente tutte le volte verrà riprodotta anche la musica. Allora, questo è il nostro effetto, in sostanza. Questo è il livello del testo. E questo è l'effetto applicato. Ecco qua, possiamo addirittura fare delle modifiche, per esempio, riducendo, cioè aumentando la velocità di entrata della transizione. Infatti, se adesso facciamo un play, sarà una cosa velocissima. Ecco qua. Oppure, trascinarla qua per farlo accedere molto più lentamente. Quindi riproviamo. Ed ecco qua un accesso più lento. Semplicemente. Quindi, come in Pineco Studio 15, questi sono i livelli, dove è possibile applicarci sopra tutte le varie cose. Quindi, se voi create un altro testo o l'oggetto, verrà messo qua sotto. Quindi, possiamo gestire più testi e più oggetti. Per esempio, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Mettiamo un video dentro l'immagine. Quindi, trascino qua sopra il video ed ecco che abbiamo un altro oggetto messo come un altro livello, livello forme. Anche qua possiamo decidere tutte le varie dimensioni. Mettiamo, per esempio, come se fosse una webcam, così, in alto a destra. E se facciamo play, adesso avremo il nostro testo ad entrata più la riproduzione del nostro video. Vedete? Perché, come vi ho spiegato anche in Pineco Studio 15, qua dentro è possibile inserire immagini dentro immagini, video dentro al video, quindi più video, più testi, di tutto. Poi vediamo cosa abbiamo. Qua abbiamo enfasi, se vogliamo applicare, ovviamente al nostro livello testo, se vogliamo applicare dei carini, carinissimi effetti al testo. Quindi, per esempio, cresci a caso, onda dettagliata, sbronzo, ecco qua, vedete? Oppure effetto, pamper up. Insomma, ora non sto a farvele vedere tutti, ce ne sono veramente tanti, questa è la freccia di scorrimento. Guardatevene uno a uno, le applicate con un click. Se vogliamo togliere un effetto, basta andare sopra questo livello, vedete qua c'è la X, la clicchiamo e sparisce tutto. E il nostro testo torna ad essere pulito. Per eliminare i livelli, come al solito, qui possiamo anche rinominarli, comunque addirittura, per renderci il tutto più ordinato e pulito, basta fare tasto destro, elimina livello, oppure tasto cance. Questo è per eliminarne la visione temporaneamente, se volete fare delle prove prima senza questo, soprattutto se avete un computer che vi rallenta, se voi avete tante forme di testo con tanti effetti, vedete che scatta tutto, guardate l'effetto finale una alla volta disabilitando l'occhio su tutte le altre. Questa è la timeline, come avete già visto, fate play, riproduci, così come se foste sulla timeline normale, possiamo aggiungere di tutto, come ho appena detto, addirittura, no, l'audio no, volevo provare. Per esempio, possiamo aggiungere delle GIF o dei PNG trasparenti per avere delle icone. Se voi avete bisogno di un avatar qua in alta a sinistra, importate un'immagine scontornata in Photoshop trasparente, la mettete qua dentro, la posizionate qua in alta a sinistra per tutta la durata del testo. Questo se c'è un testo, perché ovviamente se no possiamo inserirla direttamente nella timeline di Pinnecol. Adesso facciamo ok per confermare. Quindi, se avete un PNG trasparente, lo possiamo mettere direttamente qua, senza stare a metterlo dentro un livello testo che poi dopo va anche posizionato e va messo durante tutta la durata del video. Infatti, adesso abbiamo una clip testo di circa due o tre secondi. Vediamo. Ecco qua, se vogliamo aumentarla la tiriamo per tutta la durata del nostro video e ovviamente il testo durerà ad infinito. ovviamente invece il video arriverà semplicemente fino in fondo, mentre il testo è fisso quindi va infinito. Ecco qua, vedete che intanto il video si è fermato perché è arrivato alla fine, mentre il testo continua ad esserci. Semplicemente non saprei cos'altro dire sulla funzione testo anche perché è tutto molto facile e pulito. Vediamo un po', qua ci sono gli strumenti forme per aggiungere cerchi, quadrati, così come avevo fatto vedere anche su Pinneco Studio 15. Qua si aggiunge un altro livello testo, vedete, ad infinito anche qua. Ne possiamo mettere quanti vogliamo. Questa è la barra di scorrimento tra i nostri livelli testo. Questo è per allineare più gruppi contemporaneamente. Qua invece si decide la la visualizzazione di questi contenuti per vederli ad elenco oppure così ad icona. Possiamo allargare o possiamo ridurre per avere una visione più panoramica. E niente, qua è tutto quello che c'era da dire sul sul testo. Vi conviene comunque sperimentare, sperimentate tutto quanto anche perché non capirete mai il 100% di un programma di montaggio fino a che non vi serve fare delle cose. E niente, quindi io finirei qua la seconda parte dedicata al testo. Magari nella terza parte tratteremo gli effetti, quindi andremo a vedere di preciso l'effettistica sull'audio e sul video. Non mancate la terza parte.